Una novità che in molti aspettavano da tempo, la Lega Nazionale di Lettanti ha ufficializzato un cambiamento importante per gli allenatori, i tecnici che sono stati esonerati prima del 30 novembre potranno tornare in sella nella stessa stagione, soddisfatto anche il presidente della FIGIC Campania, Carmine Zigarelli. Un bel dialogo tra le due componenti, l'ND e l'Associazione Italiana Allenatori di Calcio, siamo riusciti in quello che era l'intento anche a tutela dei nostri presidenti, i quali possono esonerare, quindi esonerando un allenatore prima del 30 novembre gli permettono di poter mandarsi a tesserare con un'altra società, che è importante che non militi nello stesso girone o nello stesso campionato. È veramente un risultato importante quello che è stato raggiunto. Mi sono sentito più volte anche col presidente Olivieri, pure all'ultima assemblea abbiamo scambiato qualche idea, l'ultima assemblea dell'ND a marzo. Il presidente non è che era d'accordo centocento, però poi ragionando insieme e parlando con quella che è tutta quanta la componente dell'ND, ha compreso il valore di questa operazione permettendo quindi ai suoi tesserati, ai suoi tecnici che vengono esonerati, di non essere vincolati per un'intera stagione, ma poter lavorare presso altra società dopo il 30 novembre e dopo quello che è l'esoner. Ed in merito alle difficoltà che stanno attanagliando non solo il mondo del calcio, per quanto concerne la questione energetica, afferma. Si pensa a quello che è un efficientamento energetico delle strutture per ridurre naturalmente e diventare autosufficiente al punto energetico.